Sta diventando il campionato di Genova perché fondamentalmente ha questa manifestazione e quest'anno praticamente si sono iscritte le migliori barche ed effettivamente il parterre quest'anno è ancora superiore, quindi fa estremamente piacere trovarsi in mezzo a persone molto competitive. Il secondo è organizzato dal nostro circolo e quindi come tale non possiamo che essere presenti. Ci presenta un po' il suo equipaggio? Abbiamo 4-5 persone che sono fisse e alcune persone invece che le facciamo ruotare. Un ruolo fondamentale nell'equipaggio naturalmente ce l'ha mio figlio che è il co-armatore che è un po' il coordinatore del gruppo fra Pozzetto e Prua. Poi abbiamo la Prua che oggi è fatta da Deborah Alterisio che è una ragazza estremamente brava. Al 2 abbiamo Vittorio Puccio, quindi manovre all'albero, manovre sullo spi e quindi grandi responsabilità soprattutto quando c'è vento. Poi nel Pozzetto abbiamo Valerio Pazzini e Fabio Arena che sono due persone che lavorano in maniera estremamente attenti sulle scotte, hanno una grande esperienza, regatano con noi da moltissimo tempo. Alla Randa oggi abbiamo Andrea De Maria, altre giorni invece abbiamo Paolo Ganduglia che sono due persone anche loro estremamente competenti. Alle Drizze poi invece abbiamo Silvio che è una persona che stiamo facendo crescere noi ma è molto bravo, molto entusiasta, è molto attento e quindi con lui ci troviamo molto bene. L'equipaggio del Be Quiet classe J24 è un campionato molto interessante per la nostra classe perché ci sono parecchi J24 iscritti quindi partecipiamo in classe monotipo e ci confrontiamo tra di noi su un campo di regata molto agguerrito, molto interessante e quest'anno molto divertente. Un gruppo di amici con cui regato da un po' è una passione e quindi questa era la prima esperienza del campionato della lanterna che è andata molto bene e speriamo di farne altre. Cosa ti è piaciuto particolarmente? Beh la barca è molto divertente, tipo di barca, l'organizzazione è fatta bene e poi il fatto di comunque di poter uscire in mare appunto proprio perché sono di Milano, non ti dico tutti i weekend ma quasi. La nostra barca in particolar modo da cosa è caratterizzata? Beh la bellissimo nome che spunta sui lati Be Quiet poi ovviamente non può differenziarsi dagli altri perché sono tutte quante in barche diciamo uguali tra i loro. Quindi si caratterizza più che altro per l'equipaggio. E questo campionato sta rispecchiando le vostre aspettative? Eh diciamo che stiamo faticando quest'anno, è molto agguerrito, c'è stata una crescita soprattutto negli avversari che sono veramente di livello quindi ci spinge per l'anno prossimo a impegnarci di più. La nostra barca è un monotipo, G24, è il monotipo più diffuso al mondo e al campionato della lanterna ce ne sono ben otto iscritti e quindi è un campionato molto divertente. Durante l'anno facciamo uscite prevalentemente d'inverno, nelle giornate dove il vento lo consente e cerchiamo di uscire per quanto possibile per riuscire a fare squadra e allenarci tutti insieme.